Ciao ragazzi, io sono Filippo e sono un medico, ma non un medico normale, eh no, io non curo persone, ma l'ambiente. Ecco, ora voi mi chiederete, ma che razza di dottore è uno che cura l'ambiente? Beh, il punto è che il nostro pianeta ha bisogno di persone come me e come voi per poter aggiustare un po' di danni che sono stati fatti in passato. Ma non sono stati fatti per cattiveria, eh? No, ma perché non ci si rendeva conto delle conseguenze che certi comportamenti avrebbero avuto in futuro? Però oggi la scienza ha fatto grandi passi avanti per aiutarci a cambiare le nostre abitudini senza peggiorare la qualità della nostra vita. Ma la cosa più importante, prima della tecnologia, molto più importante, lo sapete qual è? Siete voi, sì voi, perché avete il potere di scegliere, di vivere rispettato il nostro pianeta, ma soprattutto potete insegnare ai vostri genitori, ai vostri amici a fare la stessa cosa. Siete voi i protagonisti di questo cambiamento ed è molto importante che impariate in giusti modi per rispettare il nostro pianeta. Perché? Perché sarete voi il futuro a dirci. Quindi abbiamo un sacco di lavoro da fare. Vergine, rimane l'amante? Certo, dottor Ambiente, l'unione fa la forza e dà energia. Ma non tutte le energie sono positive e fanno bene. Ci sono quelle buone che ci permettono di giocare.